se vi chiedessi di scegliere la tipologia di motore più ecologica ed economica dal punto di vista non del prezzo d'acquisto ma di quello dei costi di gestione probabilmente la metà circa di voi risponderebbe elettrico e l'altra metà circa metano scoda nel dubbio ha messo insieme le due cose in vision x suvo crossover che dir si voglia di dimensioni compatte attrazione appunto ibrida metano ed elettrica cosa ci faccio qui voi l'avete visto al salone di ginevra qui mi trovo invece a praga in uno spazio chiuso per provare questo concept appunto anche se solo in un'area molto limitata e a velocità controllata ovviamente di dubbi attorno a questo progetto ce ne sono pochissimi nel senso che questa macchina andrà sicuramente in produzione si posizionerà al di sotto di karok per dimensioni prezzo e tolta qualche fuga in avanti tipica di ogni concept sarà molto vicina a come la vedete come del resto vi abbiamo già ampiamente spiegato nel video live dal salone di ginevra nel dettaglio sarà soprattutto l'interno a cambiare rispetto a quanto visto qui sì perché ovviamente i sedili a guscio anteriori e posteriori spariranno visto che la versione di serie sarà a cinque posti sparirà anche il tunnel centrale che attraversa tutto l'abitacolo così come l'effetto swarovski sotto lo schermo centrale mi auguro però che l'impostazione generale si avvicini il più possibile a quello del concept e il capo del design interni mi ha promesso che sarà così soprattutto il design non sacrificherà l'imbattibile funzionalità di tutti gli abitacoli scoda detto ciò su questa macchina in realtà un dubbio a leggia il dubbio è legato più che altro alla commercializzazione della macchina nel senso che in scoda ancora non si sentono di affermare ufficialmente che la macchina verrà messa in produzione e poi venduta o meglio la macchina sì ma non con motorizzazione metano ed elettrico in ogni caso come potete vedere io la sto guidando la macchina funziona anche se ovviamente è molto molto provvisorio in una fase sperimentale ancora piuttosto arretrata e si sente lo potete sentire anche voi anche solo dal rumore sto andando pianissimo con un davvero con un filo di gas e la rumorosità è molto forte questo ovviamente non si riscontrerà poi nel modello definitivo quello di produzione perché verrà ovviamente dotato di tutti i pannelli fono assorbenti del caso insomma anche se scoda non lo dice apertamente se dovessi scommettere di Tascamia punterai sull'arrivo di questa strana coppia gas elettrico anche se le criticità non mancano e sono più di natura strategica che tecnica nei mercati in cui è presente scoda solo italia peraltro dalla toscana in su e germania hanno una rete di distribuzione del metano davvero capillare è anche vero che il metano rientra nelle strategie del gruppo volkswagen come dimostra per esempio il caso audi con l'allargamento della famiglia gtron tornando alla meccanica il 1500 turbo abbinato alle ruote anteriori è uno dei motori più nuovi del gruppo volkswagen qui a 130 cavalli e 200 newton metro di coppia di cui ovviamente ho sfruttato una minima parte la parte elettrica conta invece su un motore da circa 29 cavalli e 70 newton metro di coppia montato sull'asse posteriore ciò permette alla vision x di essere la prima trazione integrale di scoda senza albero di trasmissione ma la funzione dell'elettrico in caso di necessità è anche quella di aumentare le prestazioni o per brevi tragitti di viaggiare esclusivamente in elettrico e a trazione posteriore come avete ormai capito gli aspetti ancora da definire relativamente a questa macchina sono ancora numerosi in ogni caso ho la sensazione che una macchina di questo tipo un po per il design esterno un po trattandosi di un suv compatto e un po anche grazie alla motorizzazione ibrida metano elettrico potrebbe davvero far fare la svolta la scoda in italia grazie a tutti grazie a tutti